E' meglio non soffermarsi solo sulla tua cultura e basta. Meglio sapere di tutto anziché niente. Sapresti solo la tua cultura, parleresti solo di quello. Meglio ascoltare anche gli altri perché anche loro hanno diverse esperienze, diversi modi di fare, di abitare, vestire. Cose normali per altre culture. Poi qua, a questo progetto che abbiamo fatto con Mario Contini, abbiamo parlato dei conflitti, cosa significa arrabbiare, cosa significa aggredire, cosa significa di tutto. E' stato molto interessante perché così almeno sappiamo che non dobbiamo arrabbiarci, non dobbiamo menarci, non dobbiamo fare niente di male perché dobbiamo volerci bene l'uno all'altro. Perché non è che facciamo la guerra, siamo tutti fratelli, siamo uguali.